Ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini o la Lega. Non solo la Lega è il primo partito in Italia, Marine Le Pen è il primo partito in Europa, in Francia, Nigel Farage è il primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra, è il segno di un'Europa che cambia. Compte tenu du désaveu démocratico che il potere subito questo giorno, il appartiene da al Presidente della Repubblica di tirare le conseguenze. Lui che ha messo il credito presidenziale in questo scrittà, in cui facendo un referendum su sua politica e anche su sua persona. Questo è il valore di 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 valore. Allora la regionale che innevi vale di valore di valore di valore di valore di valore di dicendo che l'Europa non è popolare, guarda, la risposta di participazione è diminuita. Questa volta credo che è la prima grande notizia della mattina, che è che l'Europa è tornata. Ci siamo confrontati a un centro di centri di parliamenta europea, un centro di partiti che credono nel futuro dell'Europa, che vogliono sostenere l'Europa, che vogliono avere un approccio ambito per l'Europa. Ci siamo confrontati a un centro di centri di centri.